Ciao a tutti lettori e ciao a tutte lettrici, oggi vi racconto le letture più deludenti del mio 2022. Ciao a tutti lettori e ciao a tutte lettrici, benvenuti o bentrovati sul mio canale. Se venite qui per la prima volta, ciao, io mi chiamo Martina e qui sui Mendebooks mi occupo principalmente di libri, vi racconto le letture che ho fatto. Siamo alla fine dell'anno e come sapete alla fine dell'anno tutte le persone che fanno parte della community di Booktube cominciano a condividere il meglio e il peggio delle letture dell'anno trascorso. Io lo faccio ormai tutti gli anni, sono dei video resoconto, dei video che mi piace girare perché mi permettono di ripercorrere in qualche modo l'anno di letture che è stato vissuto e di confrontarmi anche con voi che questo anno lo avete seguito da questo punto di vista insieme a me. Questo è il primo appunto di una serie di video che riguarderanno i miei top, vi parlerò dei migliori classici letti nel 2022, i migliori italiani contemporanei, i migliori stranieri. Vi racconterò un po' di cose, ho deciso però di cominciare con il video dei libri flop, le delusioni, libri sui quali avevo più o meno delle aspettative che non si sono rivelate all'altezza. Del resto le delusioni sono questo, abbiamo delle alte aspettative su qualcosa e poi questo qualcosa non si rivela all'altezza di quanto avevamo immaginato. Perciò vi racconterò un po' come è stata la mia esperienza di lettura. Sono tutti libri di cui in qualche modo vi ho parlato nel corso dell'anno. Sono tutti libri che mi hanno lasciato un po' perplessa, con l'amaro in bocca o per l'appunto poco soddisfatta. Diciamo che le delusioni quest'anno ci sono state, non sono state tantissime, non è un peggiori dieci, ecco non sono dieci libri, sono meno. Perché in questo credo di essere diventata un pochino più capace di selezionare quelle cose che fanno per me e di capire quelle cose che invece potrebbero lasciarmi decisamente poco convinta. Però le delusioni ci sono state ugualmente, anche perché i libri che vedrete in alcuni casi sono dei libri anche molto famosi, dei libri molto discussi o persino dei classici. Naturalmente lo spazio sotto nei commenti è tutto a vostra disposizione per darmi un parere, che cosa ne pensate di questi libri. Molti li abbiamo, molti, alcuni li abbiamo letti anche insieme, quindi fatemi sapere, scrivete sotto nei commenti anche quali sono state le maggiori delusioni dal punto di vista di letture del vostro 2022. Partiamo con il primo. Il primo libro è stato un libro letto nella prima metà del 2022, se non mi sbaglio, se non mi sbaglio sì, ed è un libro di un autore italiano che io conoscevo come, diciamo, docente, docente di scrittura, ma non avevo mai letto niente di suo. Mi sono approcciata quindi a questo testo con molta curiosità e alte aspettative, ma è un libro che non mi è piaciuto quasi per nulla e sto parlando della verità su tutto di Vanni Santoni. È un romanzo che vi avevo appunto già commentato come gli altri, è un romanzo che parla, affronta varie tematiche, ma in particolare parla della questione della spiritualità low cost, cioè di quelle sette, di quei gruppi, di quelle congregazioni che si vengono a formare intorno ad una figura leader di riferimento e che però hanno, diciamo, poca attendibilità o comunque sono discutibili da tanti punti di vista. Ed è un libro che non mi ha convinta per niente, nonostante l'inizio. Ecco, l'inizio era stato abbastanza stimolante, avevo trovato una caratterizzazione di un personaggio che mi aveva incuriosito, il personaggio della protagonista. Mano a mano però che la storia va avanti, secondo me si perde completamente il senso della storia di per sé e diventa una sorta di grande contenitore, miscela, di sfoggio di sapere personale che dal punto di vista della godibilità della lettura, della fruibilità della lettura, trovo alquanto insoddisfacente. È uno sfoggio di erudizione sulla mistica occidentale ed orientale che si allontana sempre di più dal senso della storia e che mi ha reso molto ostica la lettura, poco scorrevole e soprattutto mi ha reso difficile capire che cosa l'autore mi volesse trasmettere. Certo è che io non ho grandissime competenze in questo ambito, mi incuriosisce molto, ho letto delle cose, però non sono certamente un'esperta, magari se avessi avuto una cultura approfondita su certi argomenti avrei colto di più, ma come non ce l'ho io immagino che non ce l'abbia la stragrande maggioranza dei lettori medi che si accingono ad acquistare questo testo, quindi non so fino a che punto questa operazione sia stata funzionale. Se lo avete letto fatemi sapere che cosa ne pensate, avevamo avuto degli scambi di opinioni su questo volume anche nei mesi precedenti, se lo avete poi recuperato nel corso dell'anno fatemi sapere se per voi invece è stata una lettura da premiare. Altro libro chiacchieratissimo che ho deciso di recuperare quest'anno nonostante numerose reticenze da parte mia, perché sapete che sui libri troppo pompati, troppo pubblicizzati ho sempre un po' di tentennamenti e il libro in questione è Persone Normali di Sally Rooney, che alla fine dell'anno si conferma una delle letture più insulse e inconcludenti che ho affrontato in questo 2022. Sia ben chiaro che, io ci tengo a precisarlo, queste sono le mie opinioni personali e se a qualcuno il libro è piaciuto non significa che non vada bene, la lettura è sempre qualcosa di soggettivo. Naturalmente nel mio video flop vi argomento perché a me queste letture non sono piaciute. Per me Persone Normali è stato un libro che ha parlato di una generazione che in teoria dovrebbe anche un po' essere la mia, ma che non mi ha parlato completamente e credo che il problema principale sia proprio lo stile di scrittura. Ho trovato uno stile scialbo, uno stile con poco mordente, che arriva pochissimo e dei personaggi che rimangono secondo me poco afferrabili. paradossalmente, e per me è una cosa strana da dire, ho trovato più convincente la serie tv, che non ho visto comunque per intero, perché poi ad un certo punto mi sono annoiata in ogni caso, però ho visto i primi cinque episodi e lì ho trovato una caratterizzazione dei personaggi, soprattutto di lei, della protagonista femminile, molto più convincente rispetto al libro. Determinate dinamiche della famiglia della protagonista, che è una famiglia ricca e per certi aspetti disfunzionale, dal libro per me non erano emerse e invece nella trasposizione televisiva la sceneggiatura, che è stata curata fra l'altro anche da Sally Rooney, è stata capace di rendere maggiormente il personaggio, quindi è probabile che l'autrice già lo avesse in mente questo elemento, questa componente, ma dal testo non è arrivata e quindi l'ho trovato molto al di sotto delle aspettative. non credo che sia il libro che racconti la generazione millennial in maniera così precisa e puntuale, questi rapporti lascia e prendi, queste fragilità dei giovani che in tanti abbiamo vissuto e che hanno caratterizzato per molti motivi una generazione, io credo che possano essere raccontati molto meglio e penso quindi che Sally Rooney sia una scrittrice un po' sopravvalutata. Non ho letto altro di suo, quindi mi riferisco esclusivamente a questo testo, soltanto a persone normali, magari leggendo gli altri testi, gli altri due testi che sono arrivati in Italia, nella mia opinione potrebbe cambiare, ma al momento non ho nessuna intenzione di fare questo recupero. Altra grande delusione, questi ce li ho qua, quindi ve li faccio vedere cartacei, grande delusione del 2022, è stato un libro letto insieme, lo abbiamo letto con un gruppetto di lettura creato apposta, Il ballo delle pazze di Victoria Mass, edito E.O. me lo avevano regalato per il mio compleanno, era uno di quei pacchetti al buio, sapete i pacchetti che si trovano in libreria confezionati senza vedere cosa c'è dentro? Me l'aveva regalato un'amica e ce l'avevo a casa, quindi ho detto ma è arrivato come regalo, leggiamolo. Qui è stata una delusione da tanti punti di vista, sia per quanto riguarda la scrittura, estremamente insipida, molto superficiale, anche brutta in determinati passaggi e secondo me non all'altezza di una casa editrice del genere, però l'autrice è famosa per altre cose, fra l'altro per la sua professione, perché lei è un'attrice se non sbaglio, si è lavorato nel mondo del cinema, ma anche per il tema, cioè il contenuto, il modo in cui è stato trattato l'ho trovato veramente inadeguato, quasi imbarazzante. Questo testo racconta la storia di un istituto nel quale venivano ricoverate donne accusate di essere delle anormali, perché? Perché la pensavano in maniera diversa rispetto alle famiglie, magari perché non si volevano sposare con gli uomini che erano stati identificati come mariti perfetti dalle famiglie, appunto, o per scelte personali, per idee che divergevano da quelle delle convenzioni, delle etichette sociali. E il tema, capite che è importantissimo, ci stiamo parlando di una fotografia, di una condizione sociale, umana, di una certa rilevanza, che lei ha trattato in maniera superficiale e del tutto priva di spessore, cioè non ha dato a questi personaggi la caratterizzazione necessaria per poterne comprendere la profondità e il risultato è qualcosa che ti lascia a dire ma perché l'ha scritto lei, perché non lo scriveva qualcuno che magari sapeva come far scriverlo, non era un tema che si meritava una scrittura così poco curata, è una ricerca così poco approfondita. Questo è il mio parere, so che molti di voi la pensano allo stesso modo, perché ne abbiamo parlato, però in ogni caso anche qui confrontiamoci, se la pensate in maniera diversa, se è un libro che avete trovato magnifico, scrivetemi sotto nei commenti. Andiamo con un altro libro che abbiamo letto insieme, che sapete benissimo che per me è stato proprio un no su tutta la linea, ed è Chiedi alla polvere di John Fante. Io credo di aver provato un disgusto tale per un testo soltanto quando ho letto Bukowski, però nei confronti di questo libro voglio cercare di essere un po' più chiara. Chiedi alla polvere di John Fante è un libro che io ho trovato detestabile, perché ho trovato detestabile il protagonista. Questo significa, come qualcuno di voi mi ha fatto giustamente notare, ed è vero, che John Fante di per sé è stato bravissimo a scriverlo, perché ha creato un personaggio odioso, un personaggio che non ti dimentichi più, perché è un personaggio che non vorresti mai incontrare. Cioè se immagini di incontrare Arturo Bandini realmente nella vita di tutti i giorni, cioè proprio no, lo prenderesti a sberle, odioso, un personaggio sessista, razzista, narcisista, egocentrico, esiste solo lui, un personaggio odioso, odioso, e quindi man mano che andavo avanti nella lettura non vedevo l'ora di finire perché me lo volevo togliere davanti. Naturalmente, ripeto, applauso a John Fante che è saputo creare questi personaggi così, questo personaggio così. Sto pensando nel frattempo ad altri personaggi che mi hanno fatto questo effetto, come ad esempio Heathcliff, uno dei protagonisti di Cime Tempestose, romanzo che all'inizio, alla mia prima lettura, ho trovato difficilissimo e sgradito, non rientrava sicuramente nella sfera dei miei gusti, poi quando l'ho riletto la seconda volta l'ho visto secondo un'altra prospettiva e ho un po' ricollocato l'identità e la percezione di questo personaggio. La stessa cosa è quella che mi ha generato Bandini, quindi su questo libro sia una delusione però è un libro che non mi è piaciuto da un altro punto di vista, non per la scrittura perché la scrittura dimostra la capacità di creare personaggi. Altro libro che ho trovato, c'è sempre il libro che cade per terra, altro libro che per me è stato una delusione quest'anno, ve l'ho raccontato di recente, è Il mistero della donna tatuata di Takagi Akimitsu, romanzo che pensavo mi sarebbe piaciuto molto, sul quale riponevo grandi aspettative perché ha tanti elementi che di solito appartengono al mio gusto, è un romanzo che parla di cultura e tradizioni giapponesi, è un romanzo ambientato in Giappone, è un romanzo dove c'è una componente di sovrannaturale, ma è un romanzo che io ho trovato molto macchinoso, con una scrittura anche metallica, cioè una scrittura quasi automatica, funzionale esclusivamente a raccontare gli eventi e anche un po' arrugginita, cioè poco fluida, poco scorrevole. Il risultato è stato che la componente del giallo, il giallo riguardante l'omicidio mostruoso di questa donna, il cui corpo era ricoperto da un enorme tatuaggio, ha preso il sopravvento, il libro è un giallo, ma appunto il giallo ha il peso maggiore, tutte quelle componenti di corredo che rendono il giallo appassionante per altri aspetti passano assolutamente in secondo piano, quindi questo è stato proprio un abbandono, un libro che non sono riuscita a finire. Ultima delusione, sì siamo all'ultima delusione del 2022, in realtà non è un libro in particolare quanto più un'autrice, un'autrice letta per la prima volta quest'anno perché non mi era mai capitato, ne avevo sentito parlare benissimo e mi ero fatta un po' un'idea, ho letto due libri di questa autrice, il primo già non mi era piaciuto, o meglio mi aveva lasciato con dei dubbi, con il secondo proprio è stato un no completo. L'autrice è Anna Maria Ortese, anche qui immagino che molti di voi la apprezzino, l'amino come autrice, ma io l'ho trovata molto ostica e molto lontana dalla mia capacità di comprensione di cosa mi volesse comunicare. Il primo libro che avevo letto è una raccolta di racconti che si chiama Il mare non bagna Napoli, ve ne avevo parlato di recente, ed è una raccolta che io ho trovato veramente molto dispersiva e anche poco incidente. Mi ha ricordato Matilde Serau, ma è come se fosse la versione annacquata di Matilde Serau, senza lo stesso, senza la stessa vivacità, senza la stessa pungente disposizione alla denuncia, quindi una versione molto più contenuta, molto più morbida, molto meno incisiva. E la stessa cosa mi è successa poi con il libro successivo, che è quello che abbiamo letto insieme per il gruppo di lettura di dicembre, che è l'Iguana. Questo anche peggio dell'altro, un romanzo con una componente del Fantastico, in cui abbiamo un protagonista che parte da Milano per recarsi in questa, compie un viaggio, alla fine arriva in quest'isola, l'isola di Ocagna, che si trova a largo del Portogallo, e qui incontra una famiglia di nobili decaduti nella quale lavora una iguana, una iguana che è alta come una bambina, una ragazzetta, ed è una serva di casa, viene trattata appunto come una serva, ma nei confronti di lei il protagonista comincia a provare dei sentimenti un po' ambigui. La cosa poteva essere molto interessante perché c'è ovviamente il tema dello sfruttamento, il tema del colonialismo, il tema di questa di questo sovrapporsi degli uomini, degli uomini di potere su persone, su esseri che sono considerati inferiori, quindi ci sono tanti elementi interessanti, ma io ho trovato una scrittura così farraginosa e anche così esibizionista senza nessun motivo. Lei costruisce questi periodi molto lunghi con una sintassi volutamente vetusta per forse collocare questa storia in un antico, altro immaginario, in un mondo parallelo che è ammantato di una sorta di fiabesco, ma secondo me, se questa era l'intenzione, l'esito non raggiunge i livelli prospettati. L'ho trovata molto lontana dal mio gusto, molto lontana anche dai fini stessi di questa storia, se i fini erano questi oppure non li ho capiti io, il che comunque è sempre possibile, ma in ogni caso non mi ha convinta per niente. Lento, duro da leggere, duro da comprendere con una serie di sottotrame nemmeno fortemente indispensabili, un po' come se con questo video flop volessi fare un ciclo, ecco un po' ho trovato quella stessa sensazione di sfoggio, di erudizione non richiesta, non necessaria, che avevo percepito nella Verità su tutto di Vanni Santoni, che vi ho citato all'inizio di questo video. Queste sono state le mie delusioni del 2022, come vedete non sono tantissimi, quindi meno male, però comunque ci sono stati. Vi ripeto ancora, aspetto il vostro parere, i vostri commenti, le vostre opinioni, ci leggiamo qui sotto e noi ci vediamo prossimamente qui sul canale con un altro appuntamento. Ciao!